Sono stati sei cani guida che da domenica accompagneranno ogni giorno altrettanti non vedenti, donati dai cinque da Lion Club e uno del Leo Club durante il Lion's Day distrettuale che si è svolta lo scorso domenica 18 aprile in tutta la Sicilia. E a causa della pandemia la manifestazione che negli anni passati ha visto una pacifica aggiosa invasione di centinaia di gile gialli in quella città dell'isola, scelta di volta in volta per celebrare la giornata dell'investitura, quest'anno si è svolta solo online sulla piattaforma Zoom e replicata sulla pagina Facebook Lions Sicilia. Hanno presenziato il governatore distrettuale Mariella Sciammetta, gli officer distrettuali di circoscrizione di zone e dei vari club dell'isola, oltre che ovviamente i soci Lions e ospiti esterni. La manifestazione ha permesso quindi di consegnare formalmente a sei non vedenti altrettanti cani guida, già appositamente addestrati nel centro di Limbiate vicino Monza, dove da anni i Lions hanno messo in piedi una scuola all'avanguardia per la preparazione dei cani per l'assistenza ai non vedenti. I cani sono stati consegnati a San Giovanni Gemini, a Sciacca, nel Messinese e nel Palermitano. Durante la manifestazione sono stati anche ammessi 96 nuovi soci dei diversi Lions club siciliani, attirando a loro altre persone desiderose di mettersi in gioco al servizio degli altri. Il Lions Day con la giornata mondiale dell'investitura è un evento che si svolge simultaneamente in tutto il mondo e vuole offrire il benvenuto ai nuovi soci Lions che entrano così da quel giorno a far parte dell'organizzazione di club di servizio più grande al mondo e quindi dare anche l'opportunità agli stessi Lions di sensibilizzare l'opinione pubblica presente all'evento sulle attività benefiche e di solidarietà svolte in oltre cent'anni di fondazione dal suo dalizio. Dal 1917 Lions si prodigono in tutto il mondo a favore dei bisognosi e delle comunità locali, aiutando i non vedenti e gli ipovedenti, offrendo loro servizi, donando passi e beni a chi si trova in difficoltà, promuovendo raccolte fonde destinate a combattere la fame, le malattie e la disuguaglianza Per difendere l'ambiente non solo nelle aree più povere della terra, ma anche vicino casa, dove spesso ci sono sacche di povertà e di degrado che molti di noi ignorano. Ecco perché si dice dove c'è un bisogno c'è un Lions pronto a intervenire.